Uno sciopero generale dell'intero comparto agricolo proclamato per il prossimo 30 aprile e che sarà confermato se non arriveranno dal governo risposte concrete per i lavoratori del settore. Ad annunciarlo è il segretario generale della Flai CGL Giovanni Mininni a Napoli per il presidio organizzato dalle sigle di categoria Flai CGL, Fai CISL e Willa Will. La mobilitazione interesserà anche i lavoratori forestali senza contratto da quasi 10 anni. Gli assessori all'agricoltura della conferenza delle regioni in maniera irresponsabile hanno disertato una riunione hanno fatto saltare una riunione per il rinnovo del contratto che si trascinava con grandi difficoltà ma andava avanti e hanno comunicato che non sono più interessati ad andare avanti. Ecco, noi siamo stufi e da questo punto di vista l'intero settore primario si ribellerà e sarà interessato non solo dalle manifestazioni che oggi stiamo facendo in tutte le piazze d'Italia sotto le prefetture ma sarà interessato il 30 aprile da uno sciopero generale perché non ne possiamo più di un paese che non ci ascolta. Tra le principali rivendicazioni, la garanzia per l'anno 2020 ai fini della tutela assistenziale e previdenziale delle stesse giornate di lavoro svolte nel 2019, il bonus per gli stagionali dell'agricoltura e la sua compatibilità con il reddito di emergenza, l'estensione della NASP e i dipendenti a tempo indeterminato di imprese cooperative e dei loro consorsi, più tutele ai lavoratori agricoli nelle zone colpite da calamità naturali o eventi distruttivi, il riconoscimento di una cassa integrazione stabile anche per i pescatori vista la forte riduzione dell'attività di pesca. Emilio Saggesi, segretario generale UIL a Campania e Giovanni Sgambati, segretario generale della UIL Campania. I lavoratori stagionali in questo paese, la stagionalità inizia con l'agricoltura e sia il governo Conte che il governo Draghi si dimenticano di quei lavoratori che nel periodo di pandemia hanno lavorato senza sistemi di protezione almeno all'inizio e che hanno portato e hanno garantito un reddito a questo paese e le tavole dei cittadini italiani. Siamo sotto le prefetture d'Italia, compresa questa di Napoli, per rivendicare una modifica al decreto sostegni perché il mondo agricolo, il mondo della pesca, il BNB sono stati esclusi e noi immaginiamo che non sia possibile lasciare indietro dei lavoratori che sono stati fondamentali anche durante la pandemia per dare un contributo importante al sistema paese.